eccoci qua ciao buonasera sono le 21 un po di musichetta vediamo un po so se riuscite a sentirla ma questa canzone piace moltissimo quindi allora buonasera a tutti come state tutti bene stasera si parla di un tema molto molto interessante e quindi vi richiederò una grande grande interazione vediamo un pochino chi compare con qualche like e con qualche pollicione così almeno vedo che ci siete siamo di nuovo a lunedì sera questa è la quinta puntata quindi dai stiamo andando avanti e questa cosa mi sta prendendo molto mi sta prendendo veramente molto è molto interessante secondo me anche perché mi consente appunto di darvi tante informazioni e di ricevere anche molti feedback quindi questa cosa mi piace moltissimo bene bene dai fatemi vedere chi c'è in diretta se c'è qualcuno non siete ancora a finire la cena non mi lasciate qui da sola fatemi un po vedere chi c'è bene bene dai stasera si parla di sedazione cosciente e si parla di controllo della paura e della paura e dell'ansia si un tema molto molto importante molto dibattuto ciao elisabetta bene ditemi se si sente bene ditemi se si sente bene leviamo la musica tra poco e aspettiamo ancora che arrivi qualche ad un altro benissimo ciao ragazzi bene allora se mi riesce di spegnere la musica ce l'ho fatta allora ragazzi come state sempre week tutte week ciao cristiana ti sei ripresa tutto bene e se sei qui vai tutto bene alla grande sei stata bravissima oggi bene si sente benissimo perfetto perfetto ciao ragazze bene bene allora già un po di donne quindi questo già mi dà coraggio è stata una lunga lunghissima giornata e devo ancora si pranzare devo ancora pranzare ma dai va bene benissimo quindi il tema che ho lanciato per stasera e riguarda il controllo della paura bene cristiana fantastico bravissima quindi controllo della paura e controllo dell'ansia si perché quando si sente quando dico anche alle cene no che mi fa piacere mi fa ridere questa cosa non dico alle cene ma tu che lavoro fai io faccio la dentista ah la dentista oh io ho tantissimo tempo che non ci vado io ho una paura terribile e questa cosa da sempre mi dispiace molto perché c'è quest'aura sempre di terrore attorno alla figura del dentista che è una cosa che comunque veramente dispiace per tutte le età dispiace dai bambini piccoli agli adulti e quindi il mio obiettivo nella vita come vi ho già detto altre volte è proprio quello di sfatare questo mito sfatare il mito del dentista cattivo del dentista dal quale bisogna spendere tanto bisogna soffrire necessariamente bisogna rimandarlo il più possibile sì mi ripeto perché ve l'ho già detto anche in altre puntate però vi assicuro che è veramente un tema per me importantissimo e quando in realtà i pazienti si rendono conto che non è necessario avere paura del dentista cristiana tu che ne pensi bisogna avere paura del dentista perché sei stata coraggiosissima bisogna venire con tranquillità ciao Elisa fantastico anche Elisa per ora siete tutte week week di vari posti ma tutte week ecco Chiara Biondi che sarà la prossima week nonché mia assistente fantastica che mi segue in tutte le nostre peripezie mandatemi un pochino di like un po' di cuoricini quindi si diceva l'obiettivo di vita è Chiara lo può confermare Chiara Biondi che è la mia mitica assistente e che ormai ragiona assolutamente come me quindi siamo sempre protese nel cercare di far star bene il paziente il più possibile quindi ragazzi ripetete con me dal dentista non è necessario avere paura no non si deve avere paura assolutamente e come si fa per non avere paura? soprattutto perché come sappiamo la paura essenzialmente deriva da percorsi precedenti ciao Chiara deriva da paure che si sono accumulate nel tempo da racconti micigali quindi io quando ero piccolo mi hanno strappato i denti c'è sempre nei pazienti ma non tanto odontofobici ma nei pazienti ciao Giuseppe nei pazienti che hanno comunque paura che hanno una storia di fobia di paura sempre di rimandare queste sedute dal dentista in realtà nella loro storia c'è sempre appunto qualche evento che li ha spaventati ora sono tutte spagnole? no perdono pazienti? no bene ma anche gli spagnoli ci piacciono dai va bene allora appunto dicevo Chiara mi segue in questo percorso professionale e lei appunto mi aiuta moltissimo in questo e come vi dicevo la paura deriva essenzialmente da qualcosa spesso che ci è successo quando eravamo piccoli o da racconti che ciao da Riccardo Riccardo ciao un altro dei ragazzi fantastici questo è per Riccardo perché è bravissimo è diventato super mega bravo lo avevo un pochino di paura però adesso è bravissimo vero Riccardo adesso non hai più paura mandami un po' un messaggio anche un curicino un like e soprattutto scrivimi se hai ancora paura oppure se adesso vieni volentieri da noi e quindi vi dicevo questa paura ancestrale che ci portiamo dietro anche dai racconti allora il nostro veramente il mio obiettivo è quello di far sì che i pazienti vengano come vi dicevo volentieri e come si può fare questo? allora uno sfatare dei miti per sfatare i miti bisogna intanto andare dal dentista possibilmente quando non c'è un problema quando non c'è il dolore oppure quando non si è aspettato troppo spesso noi tendiamo ad aspettare ad aspettare fin tanto che proprio non se ne può più e chiaramente in quel momento quando andiamo da questo fatidico dentista ecco diventa sempre bravo Riccardo vengo volentieri da te bravissimo da me e da Chiara bravissimo Riccardo fantastico ecco questa è una dimostrazione di un bambino che aveva un pochino di paura e che invece adesso viene molto volentieri e come abbiamo fatto? magia? no non c'è la magia c'è l'impegno l'impegno da parte nostra quindi dell'operatore dell'assistente di tutto lo staff nel coccolare ma soprattutto ascoltare e capire dove è stato il momento che ha bloccato il paziente cosa è successo che ha provocato questo trauma che può essere più o meno grande ma talvolta devo ammettere che ci sono dei pazienti che pensano di avere paura ma che magari non hanno veramente avuto un trauma vero e proprio quindi cercate di andare sereni dal dentista e come vi dicevo il trucco numero uno è quello di andare quando non ci sono problematiche esagerate quindi alla prima bisaglia di un fastidio andare subito dal dentista non aspettare che si abbia un dolore micidiale ma ancora meglio andare con regolarità quando non avvertite nessun tipo di problema perché? perché in questo modo il dentista è in grado di mettere in evidenza quelle che possono essere le piccole problematiche ragazzi ci siete? mandatevi un pochino di pollicioni e di like così almeno mi rendo conto e anzi mi piacerebbe anche che mi mandaste un pochino di domande così perlomeno mi aiutate a guidarvi in questo percorso quindi dicevo intanto appunto andare dal dentista quando non ci sono problematiche particolarmente grandi e poi soprattutto noi ci impegniamo molto ciao Eva Eva è un'altra collega una collega bravissima che anche lei si occupa di sediazione cosciente e quindi organizzeremo qualcosa anche insieme qualche diretta insieme quindi vi dicevo come si fa per controllare la paura e l'ansia? beh allora abbiamo detto intanto la prima cosa da parte nostra da parte dell'operatore dello staff è quello di ascoltare ascoltare cosa è successo prima e che cosa ha provocato un eventuale blocco quindi questo perché? per evitare di magari riproporre lo stesso meccanismo e la stessa sequenza di eventi che hanno portato a questo ricordo negativo quindi questo intanto dobbiamo saperlo dobbiamo cercare ciao Eva grazie mille di essere qui mi fa molto piacere anzi se intervieni e mi aiuti mi fa mi supporti e quindi dicevo quindi intanto appunto l'ascolto e il cercare di capire l'altra cosa ciao Luca grande coach dicevo quindi l'ascolto che è fondamentale proprio per evitare di riproporre la stessa sequenza e l'altra cosa che si può fare è che noi utilizziamo moltissimo nello studio io uso da dieci anni la sedazione cosciente la tecnica della sedazione cosciente si dicono un sacco di miti e leggende su questa tecnica bisogna dire che intanto siamo in pochi ad ciao Nicco e Lorenzo ciao ragazzi altri due pazientini bravissimi e fantastici che mi tocca anche truccare sempre da pirati con i baffi mi raccomando ragazzi la prossima volta ancora sedazione top e quindi vi spiego appunto vedete che abbiamo veramente una standing ovation per la sedazione cosciente beh dicevo è una tecnica nella quale io credo tantissimo e vi spiego appunto perché siamo comunque in pochi ad utilizzarla si parla di circa il 5% ad oggi il 5% dei dentisti italiani utilizzano grazie utilizzano la sedazione cosciente perché beh perché le apparecchiature costano tanto costano veramente tanto i gas costano tanto e quindi bisogna crederci bisogna credere in questa tecnica ma soprattutto bisogna grazie cristiana mi fa piacere che tu stia bene e che tu sia così contenta di quello che abbiamo fatto oggi grandi aspettative faremo grandissime cose insieme e quindi dicevo appunto è una tecnica che ha un costo piuttosto elevato e quindi questo è un pochino il motivo che spinge molti colleghi a dire sì va bene ma io posso lavorare lo stesso sì ma quello che diciamo quello che è poi il motore trainante di questi anche investimenti molto ingenti di cui forse il paziente non si rende tanto conto è che il mio obiettivo è che il mio paziente stia bene il mio paziente appunto come vi dicevo deve venire da me senza avere paura ciao Aldo sempre puntualissimo e precisissimo fantastico grazie mille di essere qui e quindi dicevo la sedazione ha questo vantaggio che consente bisogna crederci come vi dicevo perché giustamente molti colleghi anche quando tengo i corsi tre settimane fa ho ottenuto un bel corso a Landi di Arezzo dove c'erano circa un'ottantina di colleghi e molto spesso l'obiezione è quella che ti viene detto sì ma io comunque riesco a lavorare lo stesso certo tutti riusciamo a lavorare lo stesso anche senza la sedazione cosciente in realtà ci sono tanti casi quelli che poi vengono mandati a me o anche ai vari colleghi che utilizzano la sedazione dove in realtà senza la sedazione non è possibile trattarli non è possibile farli star bene quindi si potrebbe lavorare lo stesso ma se possiamo offrire un servizio diverso e possiamo effettivamente eliminare l'ansia eliminare la paura del dentista e far stare bene il paziente ma perché no è un investimento che va fatto non è poi così importante per me devo dire avere sì è vero devo investire anche sugli impianti sul resto ma la prima cosa per me è che il paziente stia bene e che viva serenamente le sedute per il paziente ma anche per me perché un paziente stressato che ha la tachicardia che ha difficoltà a respirare che ha questo stato di ansia che si muove si agita ma perché fa male a lui ma fa male anche a me e anche alla mia assistente Chiara e quindi è molto importante questa tecnica in cosa consiste allora essenzialmente consiste nell'inalare attraverso una mascherina io ho due apparecchiature due apparecchiature Chiara tu stai vivacizzando moltissimo la serata grande dovete sapere che Chiara non voleva assolutamente aprire la pagina la pagina Facebook che ha aperto esclusivamente per seguire le dirette quindi un grande atto di fiducia e di amore nei miei confronti mandatemi grazie mille ancora un pochino di like e di cuoricini quindi vi dicevo come si utilizza il paziente deve avere la sua collaborazione eh certo adesso poi ci arriviamo ci arriviamo Eva grazie mille che l'hai detto quindi si diceva quando si parla di sedazione cosciente appunto si utilizzano delle apparecchiature che sono delle apparecchiature estremamente precise e che attraverso un display ci consentono di controllare quella che è la concentrazione di questa miscela di protossido d'azoto che cos'è il protossido d'azoto considerate che è un qualcosa che noi già stiamo respirando io e voi lo stiamo già respirando fate così ecco c'è già il protossido d'azoto nell'aria che abbiamo respirato ora solo qual è la differenza è che nell'aria che stiamo respirando adesso abbiamo una concentrazione del 21% di ossigeno rifate ancora un bel respirone anche i bambini che mi stanno seguendo che sono tutti diventati bravissimi nel respirare con il naso mentre quando utilizziamo la sedazione cosciente l'apparecchiatura digitale abbiamo una concentrazione di ossigeno molto molto superiore al 60 al 70% 75 quindi questo che cosa vuol dire che il paziente comunque è iperossigeno quindi anche per tutti i pazienti cardiopatici per tutti i pazienti appunto ansiosi ovviamente odontofobici è proprio una tecnica salva vita perché evita di avere quello stato di ansia e quella produzione di adrenalina che potrebbe a lungo andare durante la seduta provocare provocare appunto Elisa tu sei la mia cambia preferita lo sai e dicevo appunto provocare una per esempio delle tachicardie quindi è molto molto importante la serenità e la tranquillità mi dicevo appunto che queste apparecchiature sono digitali quindi sono estremamente precise io ne ho due in particolare e il paziente viene chiesto di usare questa mascherina che viene applicata sul naso così guardate che carina che sono ci sono vari colori vari profumi e attraverso questa mascherina si inala questa miscela che io controllo attraverso la mia apparecchiatura quindi potrò erogare più o meno protossido e farlo aumentare in modo molto molto graduale il mio obiettivo qual è? è quello di portare il paziente anche attraverso l'ipnosi attraverso il modo di parlare attraverso per esempio il fatto di portare mentalmente guidare il paziente mentalmente in un posto che sia lontano perché questo? perché chiaramente se io sono seduta sulla poltrona del dentista e sono concentrata a a immaginare che adesso sto per sentire male sto per sentire male sto per sentire male e sono in super tensione ciao Elisabetta buonasera e ben arrivata e sono appunto sulla poltrona del dentista super in tensione ho il video bloccato accidenti non so aiutarti però vedrai che poi si sbloccherà gli altri vedono vedono bloccato o vedono tutti bene? ditemi un pochino se sentite e se vedete bene per favore perché può darsi che sia un problema di linea magari collegato a quello proprio di Elisabetta per esempio a me a casa succede quindi a seconda di dove siete di dove vivete può darsi che un pochino si blocchi ditemi un pochino se sta andando tutto bene se riuscite a vedere e a seguire ok perfetto allora vi stavo dicendo quindi si diceva si applica questa mascherina e gradualmente si fa incrementare la concentrazione di protossido con l'obiettivo di l'obiettivo di arrivare ad un certo punto nel ciao Mary Grace perfetto bene sia audio che video benissimo bene bene allora vi dicevo l'obiettivo l'obiettivo finale qual è è quello di arrivare ad avere il paziente che comincia a rilassarsi e c'è proprio un punto che è soggettivo quindi quello che viene definito come baseline ossia la concentrazione di protossido che è ottimale per quel paziente e che è diverso ovviamente io ho un certo baseline che è diverso da quello di Chiara piuttosto di Chiara Lepri piuttosto che di Mary Grace di Elisabetta delle altre ragazze o di Elisa quindi ognuno ha un baseline che è personalizzato e questo come si fa a trovarlo si fa appunto guidando il paziente attraverso quella che viene definita come iatrosedazione cioè o ipnosi in modo tale da portare il paziente lentamente attraverso una musica di sottofondo attraverso il ricordo di profumi di rumori portando la mente del paziente in un posto che sia lontano per esempio Elisa dimmi se è giusto vuole sempre andare al mare a fare una passeggiata al mare a volte anche senza figli da sola in modo tale da stare serena rilassata e riprendersi un attimo invece i suoi bambini amano molto le favole di avventura e quindi per i bambini si fa un qualcosa di diverso e si portano in un mondo di solito io perlomeno amo molto portarli in un mondo fantastico e raccontare delle favole nelle quali loro sono i personaggi e quindi costruiamo insieme mentre facciamo magari delle otturazioni delle devitalizzazioni a volte delle terapie che possono spaventare molto anche i pazienti adulti ecco che in questo modo magicamente la mente va da un'altra parte si ha una sensazione molto distante di quello che sta accadendo quindi io di solito faccio sempre un paragone e dico beh se io adesso ti do un pizzicotto tu lo senti 10 se te lo do con la sedazione cosciente quando abbiamo trovato la concentrazione ottimale ecco che magari tu lo senti 2 lo senti 1 non te ne importa niente perché sei nel tuo mondo e stai proprio bene nonostante tu sia perfettamente cosciente quindi mi puoi dire ho l'acqua in bocca mi dà fastidio questo mi cambi il canale piuttosto che altro quindi il paziente è sempre cosciente è sempre consapevole ha sempre i riflessi della deglutizione attivi quindi può tossire può parlare e quindi è una cosa veramente molto positiva è una tecnica molto molto positiva che ripeto io utilizzo tantissimo oggi per esempio abbiamo avuto una ragazza che è mia paziente da molto tempo e che non aveva mai voluto ha avuto esigenze particolari non è una paziente che ha particolare timore viene a fare ha fatto tante tante terapie ma adesso viene semplicemente a fare il mantenimento con l'igiene ecco e oggi le ho detto dico guarda scusa ma perché non proviamo la sedazione cosciente che altre volte non avevi voglia di provare ecco devo dire che oggi abbiamo fatto l'igiene con la sedazione cosciente su un paziente che non ha nessun tipo di problema nessun tipo di ansia e lei si è alzata e ne ha detto io sono stata sì ora tu Chiara sei particolare se tu vai a fare shopping brutta scusa questa mi sa che tu fai shopping anche senza la sedazione allora dicevo e quindi appunto lei si è alzata e ha detto ma io sono stata benissimo perché perché comunque hai questa leggerezza hai la mente che è da un'altra parte non percepisci fastidio e quindi ma una figata eh scusatemi io non voglio sentire male e quindi io stessa quando faccio l'igiene con una collega ce la facciamo a vicenda io mi faccio sedare perché devo sentire male o devo stare in tensione non ci penso nemmeno bene l'altro punto importante però mi piacerebbe mi mandaste anche delle domande se vi vengono l'altro punto importante è quello che spesso si parla della sedazione cosciente come un qualcosa di pericoloso no non è pericoloso allora intanto vi ho già dato un indizio che è quello che riguarda il fatto che il protossido d'azoto noi lo respiriamo già quindi non ci possono essere allergie non ci possono essere problemi a meno che per esempio non si abbiano otiti o non si abbiano soprattutto otiti perforanti non si abbiano non siano state presenti delle otiti perforanti perché allora in quel caso può essere magari un problema in quanto il protossido tende a creare una minima pressione all'interno di cavità e quindi ecco che in questo caso può essere un pochino più fastidioso l'altro problema appunto grazie dei cuoricini e di like ancora un po' dai chi è chi mi sta seguendo mi mandi un pochino di like e anche per il film che stiamo guardando il libro della giungla che è fantastico vero Chiara noi ormai sappiamo tutti i film di Walt Disney a memoria anche di più e vi dicevo appunto spesso si ha un po' questa idea parlando con colleghi soprattutto diciamo questa idea di pericolosità ce l'hanno soprattutto i colleghi anestesisti non perché non siano preparati i colleghi anestesisti ovviamente sono super preparati ma magari non conoscono bene questo tipo di tecnica cioè loro conoscono il protossido d'azoto l'uso del protossido d'azoto nella sala operatoria che soprattutto tempo addietro aveva effettivamente delle criticità abbiamo sentito a volte purtroppo abbiamo sentito dei casi in cui il paziente era andato in ipossia o era addirittura deceduto ma questo anni addietro perché magari era stata data appunto troppo protossido rispetto all'ossigeno in realtà con queste macchine questo non è possibile che avvenga perché sono macchine digitali che hanno un blocco ed è un blocco che consente sempre di essere iperossigenati perché hanno un blocco in cui ci può essere un massimo di erogazione del 70% di protossido e quindi ne abbiamo sempre un 30% di ossigeno che se vi ricordate quant'era la concentrazione di ossigeno nell'aria ciao Gianna buonasera ditemi un po' scrivetemelo voi quant'era la concentrazione di ossigeno nell'aria vediamo se mi avete ascoltato perché sono una maestrina dispettosa io vediamo un po' dai dopo ve lo dico io vi dico se è giusto o no comincia per due comincia per due e finisce per uno quindi 21% di concentrazione di ossigeno nell'aria e quindi ecco che in questo caso vi rendete conto che con queste apparecchiature siamo sempre iperossigenati quindi il paziente è sempre in massima sicurezza quindi il problema della pericolosità del protossido d'azoto non esiste con questo tipo di tecnica la tecnica appunto della sedazione cosciente meglio definita come analgesia relativa secondo l'anga così dai fate un figurone alle cene o il mio dentista usa l'analgesia relativa secondo l'anga dai ve lo consiglio fate veramente un figurone e chi è appunto questa tecnica che si differenzia dalle altre proprio perché consente di guidare il paziente fin tanto che non abbiamo raggiunto quello che abbiamo definito come baseline quindi questo livello questa concentrazione ottimale di protossido d'azoto che è soggettiva quindi va bene per me ma non va bene per un altro paziente quindi noi poi ci segniamo in cartella quale è stata la concentrazione raggiunta ed ecco che dalla volta successiva possiamo ripartire direttamente da questa l'altra obiezione che mi viene spesso fatta dai colleghi quando tengo i corsi è quella del sì ma ci vuole del tempo però per trovare il baseline no in realtà no ci vogliono veramente 3-4 minuti soprattutto se siamo un po' allenati e se siamo abituati a interpretare le reazioni dei pazienti e quindi ormai devo dire che con Chiara siamo ultra veloci però ripeto è un è un servizio che si riesce a dare talmente importante che per me è veramente irrinunciabile quindi quando io ho aperto questo piccolo studio che ho in quel di troghi la prima cosa che ho fatto il primo acquisto che ho fatto pur sommergendomi di debiti che ancora sto finendo di pagare ma è stato prendere l'apparecchiatura per la sedazione cosciente perché per me è proprio imprescindibile prima il paziente deve stare bene deve collaborare deve venire serenamente io non voglio vedere gente che sviene che sta con gli occhi sbarrati che suda no qui bisogna stare bene quindi la televisione il profumo spruzzato nell'aria a modo tale che il paziente non abbia la sensazione non avverta gli odori del dentista anche se adesso non si usano più quelle creme quelle sostanze micidiali che si usavano un tempo e che proprio davano l'imprinting del dentista e quindi grazie grazie mille di tutti questi querecini e quindi dicevo ecco questa è la tecnica della sedazione cosciente o analgesia relativa secondo l'angue ed è veramente molto molto importante e dobbiamo cercare proprio di diffonderla più possibile anche appunto ai colleghi perché è come vi dicevo fondamentale che i pazienti stiano bene dobbiamo creare una delle nuove generazioni di pazienti che vengono volentieri considerate che ciao Anna Paola considerate che qui in studio da me vengono anche e ve lo potrà anche dire la Chiara che ci sta guardando noi abbiamo pazienti anche oggi abbiamo visitato una bimba di un anno che come vi dicevo nella puntata precedente noi facciamo delle visite anche a bambini molto molto piccoli perché la prevenzione è il punto fondamentale ed è ciò che consente anche alle famiglie di spendere molto meno e Riccardo che ti riempie di cuoricini grazie Riccardo fantastico poi ti do bacini quando vieni fantastico Riccardo grazie mille e quindi dicevo continua pure a mandare i cuoricini Riccardo che mi piacciono moltissimo i tuoi cuoricini e ciao Simona e quindi vi dicevo appunto è molto importante appunto che i bambini possono venire molto precocemente ed è soprattutto molto importante che le visite vengano fatte con grande con grande serenità come vi dicevo questa tecnica e Chiara che ci sta guardando ce lo può confermare è una tecnica che noi utilizziamo appunto su bambini piccolissimi perché perché vogliamo che il bimbo non abbia traumi poi ci sarà un momento seguendolo durante il percorso nel quale non sarà più necessario magari utilizzare il protosteo come abbiamo fatto oggi con il bimbo Giulio che è arrivato all'inizio assolutamente non collaborante tanti anni che in cura da me e poi oggi magicamente abbiamo visto che era sereno e abbiamo cominciato a lavorare facendo un'otturazione anche piuttosto complessa senza dover utilizzare la sedazione quindi è un'arma in più che abbiamo per consentire al paziente di stare bene di vivere serenamente le sedute ed è estremamente importante vi dicevo appunto non può creare nessun tipo di problema anche ai bambini quindi noi come vi accennavo la utilizziamo già sui bambini anche molto molto piccoli dai due anni in poi i bimbi che ci arrivano magari che sono stati già in altri studi riesce solo a lei no non è vero diciamo che ci siamo abbastanza specializzate e quindi ovviamente con Chiara avendo un assistente brava come lei ma soprattutto con la quale siamo veramente in sintonia ecco che questo lavoro riesce ancora meglio diciamo che ci riesce perché ci crediamo io credo come al solito come in tutti i lavori che se ci metti veramente la passione e ci metti l'anima ma come fanno tantissimi colleghi ovviamente ecco che questo messaggio passa e quindi ci arrovelliamo per cercare ci confrontiamo con Chiara per cercare di capire quale magari può essere la curiosità la particolarità che possa consentirci la volta dopo di stupire magari un bambino non collaborante e di e di appunto portarlo a collaborare e devo dire grazie ragazzi mi fate arrossire dai e devo dire che grazie mille devo dire che appunto questo il bambino lo percepisce immediatamente così ovviamente come lo percepiscono gli adulti però il bambino non lo possiamo fregare quindi se effettivamente ci mettiamo impegno e cerchiamo di farlo stare bene lui lo percepisce quindi c'è un momento nel quale il bimbo da non collaborante comincia a diventare collaborante a volte basta solo una seduta in una seduta molto spesso noi abbiamo dei bambini che entrano assolutamente non collaboranti che magari ci vengono inviati molto bravo ora non esagerare Chiara eh però eh lo sapevo io ti cancello subito dalla mailing list no te sei fantastica senza di te tanto si lavora sempre in team quindi io da sola non potrei fare quello che faccio e forse neanche Chiara da sola perché dai siamo lavoriamo in sinergia così come con gli altri colleghi con la dottoressa Daniella Signorelli Matteo Baldini eccetera quindi lo staff insieme lavora alla grande con la stessa passione e questa è la cosa che ci eh che è molto importante nel lavorare quindi non solo avere dei brani dei bravi collaboratori ma soprattutto avere questa energia questa forza e questa passione che ci unisce per il bene del paziente perché lo diciamo grazie mille ehm però effettivamente questa è davvero la cosa importante la passione e l'energia che poi ti porta anche a ricaricarti e magari alle nove e mezzo di sera ad essere ancora in studio eh dopo aver passato è anche Chiara a casa che mi sta guardando quindi anche questo è un segno di di grande passione di grande sinergia quindi ragazzi in chiusura per dirvi la sedazione cosciente è una tecnica estremamente importante eh della quale ci dobbiamo fidare ed è un ausilio molto molto utile ma ripeto non solo per il paziente odontofobico per il paziente pauroso per il paziente ansioso per il paziente non collaborante il diversamente abile noi abbiamo una eh categoria ehm abbiamo tantissime categorie di pazienti che vengono pazienti autistici la situazione cosciente non è la bacchetta magica ragazzi guardatemi non è la bacchetta magica e questo i colleghi che la utilizzano come Eva Bendinelli lo sanno lo possono confermare non è la bacchetta magica ma unita all'ipnosi alla passione all'empatia alla anche allo studio che è strutturato in modo tale da stupire ed accogliere il paziente ecco che tutti questi elementi insieme rendono anche questa tecnica molto efficace il problema qual è? che tanto molto spesso appunto quando mi capita di tenere questi corsi queste conferenze eh tanti colleghi mi dicono no no ma io ho provato non funziona non funziona se tu non ci metti tutti questi ingredienti intorno perché il il protossido d'azoto da solo se io mi metto la mascherina sul naso e inalo così senza che nessuno mi guidi avrò sicuramente una sensazione spiacevole perché devo essere guidata in questo percorso e quindi occorre quella che dicevamo una iatro sedazione così come appunto il parlare in un certo modo portare il paziente attraverso anche un percorso di ipnosi e di suggestione in modo tale da farlo stare bene quindi ragazzi vi lascio in chiusura ringraziandomi veramente tantissimo perché siete state tante eh mi fa veramente piacere fare queste queste puntate vi ringrazio tantissimo per mandatevi un pochino di like e di cuoricini dai infinire voglio vedere un'esplosione di like e di cuoricini e e quindi io credo veramente che queste queste puntate che io faccio con con grande ardore possano effettivamente servire per togliere delle paure non mi interessa accaperrarmi i pazienti non lo faccio per questo poi ovviamente se volete venire da me sarà un'esperienza in più e mi fa piacere ma servono hanno come obiettivo quelle di quello di dare delle informazioni di sfatare dei miti quindi mi raccomando anche per le prossime volte mandatemi un pochino di messaggi di domande come abbiamo fatto nelle volte precedenti perché questo mi può servire appunto per sfatare un po' di miti e quindi per poter essere ancora più esauriente quindi ragazzi io vi saluto vi ringrazio tantissimo per essere state con me avermi fatto compagnia spero che questa puntata possa avervi aiutato o aver chiarito alcuni concetti possa aver diciamo eliminato alcune paure alcuni timori quindi ragazzi mi raccomando in chiusura esistono delle tecniche per farvi stare bene dal dentista e comunque il dentista di fiducia è sempre la persona che vi può accogliere vi può ascoltare e vi può aiutare quindi andateci senza paura non il messaggio è non aspettate di stare male non aspettate di avere mal di denti di non dormire la notte no dovete andarci prima con fiducia spiegare il vostro problema e farvi aiutare mettervi nelle mani del professionista di fiducia va bene un bacio grossissimo vi auguro una buona serata e vi ringrazio veramente tanto per essere stati con me grazie mille e grazie anche ai colleghi e agli amici che mi hanno fatto compagnia ciao grazie grazie buona serata grazie a tutti